Ma salve a tutti youtube, si fosse Filippo Ferenza qui con una nuova food review oggi provo una nuova tavoletta Lind delicato 70% Novità per quando riguarda il mese di novembre, per quando riguarda la Lind Excellence che questa volta distribuisce una nuova versione del 70% però questa volta delicato troviamo in bella vista la fantastica scritta delicato 70% cacao questa volta leggermente violaceo come sfondo dicono che è un fondente moderato, leggero e accessibile dietro possiamo trovare tutti quanti gli ingredienti e le informazioni nutrizionali Maitre Cioccolatier ci dice che è un cioccolato fondente per tutti più morbido e vellutato all'assaggio con un'amarezza molto contenuta Tavoletta questa volta pagata 2,25€ e ora vedremo se il gusto è veramente delicato oppure no Come sembra un bel quadrato bello grande A taglio devo dire pulito e netto Un odore molto interessante e molto coinvolgente Ma ora passiamo all'assaggio Non lo sapete che forse questa è diventata una delle mie tavolette di cioccolato preferite? Personalmente io preferisco quelle con una percentuale di cacao molto più alta intorno all'80-85% Però devo dire che quello che ho potuto assaggiare rispecchia perfettamente quello che c'era scritto Nel dietro della confezione Un gusto molto avvolgente Non tanto amaro E anzi mi aspettavo una punta Maggiore di dolcezza Personalmente non la pagherei 2,25€ L'avrei pagata qualcosina in meno Però il gioco vale la candela E quindi ragazzi che dire Spero che la recensione della nuova tavoletta Targata lint Delicato 70% Vi sia piaciuto Vi metterò qua sotto il link in descrizione Oltre food review Mi raccomando iscrivetevi al canale Condividetelo ovunque E buon appetit